Giagal o a sperimentarsi comunque in quello che piace fare e a provare molto spesso delle porte chiesa in faccia qui in Italia, a dover espatriare, in questo senso. L'idea nasce proprio da questo, perché il nostro amico fu costretto in quel modo a partire, quindi cominciamo a parlarne, a chiederci, ma dove partireste o lascereste la famiglia, l'esigenza, per andare a trovare il successo altrove, da niente. Io pensavo che dicessi, il nostro amico fu risucchiato dello spazio profondo, quindi sei. Sarebbe stato veramente fattissimo, ma come lo dicevo? Sì, per il fatto di tutto, per essere risucitato anche in uno spazio. In questo senso qua, il primo vuole affrontare anche un po' la paura del gnotto, no? Questo qua si fa affrontare anche un po' questo, la paura di affrontare cose che...